Musica Musica Lieviti pasquali per l'impasto, 150 g di acqua, 20 g di lieviti di birra, abbiamo detto che è importante, 10 uova divise in albumi e tuorli, 3 g di pepe, 500 g di semola rimacinata di grano duro o farina doppio zero di buona qualità, 500 g di farina manitoba, 100 g di parmigiano grattugiato o altri grandi formaggi italiani, così vale per il pecorino, 100 g di pecorino stagionato, un cucchiaio raso di curcuma, 100 g di spinaci cotti, impasto è quello classico, 1 kg di farina e 10 uova e un panetto di lievito, impasto casa areccio, quello che ci portiamo avanti da tanti anni, acqua, 150 g, il panettone di lievito, le 10 uova che classicamente vengono messe tutte assieme, questa volta le ho separate, quindi parto sempre con liquidi ed albumi, faccio sciogliere il lievito, oggi faccio ancora un'altra esperienza, metto la forte manitoba, quindi un grano tenero, eh non l'ho pesata, ricominciamo, qua, bello, non è mai troppo presto, è anche questo, a zero, faccio 500 g di manitoba, va bene così, e per sperimentare ho fatto un'altra cosa, sempre forte, grano tenero, grano duro, semola rimacinata di grano duro, quindi una farina più fine, con un'altra tipologia come famiglia di grano, ma alla fine mi darà un impasto di quelli giusti. Adesso in questa ricetta ci vanno i formaggi, i formaggi donano sapore sicuro, donano la parte grassa e il sale, quindi niente sale, ci metto il pepe a chi piace, o altre spezie, in teoria in questo nostro del centro d'Italia ce ne dovrebbe andare tanto, però cerchiamo di farla abbastanza neutra. Uno, due, tre, adesso tuorli, formaggi e pepe, possono andare assieme. Ok, tuorli che fra poco li aggiungeremo, lavorateli bene, si lavora comodi. Adesso questa pasta è già pronta, voi la lasciate, fate la prima lievitazione, almeno pomeridiana, 6-8 ore. Attenzione alle temperature, non spingete oltre i 20 gradi in casa. Quindi dopo la prima lievitazione pomeridiana, avrete dopo 6-8 ore, avete questo impasto qui. Ma non è finita, questo è il neutro. Ho pensato per voi di fare tre impasti, guardate che belli. Perché dalla prima bianca, io vi consiglio di fare delle erbe fresche, spinaci, bietole, erbette, frullate, ok? Fino ad ottenerne 100 grammi e una buona quantità di curcuma. Voi prendete l'impasto naturale, lo dividete in tre. Il primo lo impastate in curcuma e il secondo lo impastate con le erbe. Le mettete a lievitare una notte, 6-8 ore e a questo punto sono pronto per farcire. Ok. Lo stampo è questo e se lo stampo è questo ci andrà 700-800 grammi di pasta tutto, quindi 200 grammi di pasta a rotolo. vi prendete una misura che significa non lo fate più di un centimetro e mezzo, facciamo così. Ecco, mi prendo un coltello, per un coltello facciamo il primo, vado avanti con il secondo, vado con la terza. Mas o meno, più o meno. Fammi fare tutto bene. Che significa che qui non ci mettete niente. Poi, come sempre, la farcitura non è solo al centro, quindi partite dai lati. Bella quantità di asparagi verso i lati. Tutti e tre. Lo voglio sentire il prodotto, lo voglio sentire. Lascio una chiusura. Allora, bianco. Bianco. Eh, qua c'è. Pancetta, salame. Gamberi e curcuma. Gamberi, asparagi e curcuma. I gamberi sono cotti perché preferisco rovinare un gambero, quindi portarlo sopra la cottura, però avere più una sicurezza a livello batterico, perché faccio una seconda lievitazione molto lunga. E questa forma datteri. Asparagi, feta, anche un po' di yogurt, si può mettere, che gli dà l'acidità. Guardate, schiacciate giù. Qua. Qua, così. Chiudere, chiudere, chiudere. Qua. Ancora dentro. Questo lavoro. Sigillate ai lati. Lasciate riposare. E la magia è questa. Questa è ancora dopo sei ore. Questo è per me. Questo è per voi.